Ciao, con questo tutorial vi mostro come scaricare eSpeak. eSpeak è una voce SAPI 5 totalmente gratuita. La qualità non è delle migliori, ci sono delle voci SAPI 5 a pagamento molto più evolute, diciamo, però eSpeak come voce SAPI 5 gratuita ci può servire per provare e quindi vedere le funzioni e le caratteristiche e alcuni software che utilizzano la sintesi vocale. Allora, andiamo sul sito dal quale possiamo appunto scaricare eSpeak, che è questo, eSpeak.searchforge.net e andiamo a cliccare molto semplicemente su Download. Una volta cliccato su Download si apre questa pagina. possiamo scegliere quale file ci serve, quindi se per Windows, per Mac OS X oppure per SISC OS. In questo caso io ho il sistema operativo Windows, quindi clicco sul Download di eSpeak per Windows. Scelgo di salvare con nome questo file, per comodità lo salvo sul desktop, è un file zippato, vi ricordo. Benissimo. E comincia il download. Terminato il download avremo il nostro file zippato, come potete vedere. decomprimiamo. In questo caso io lo faccio attraverso risorse del computer. Esplora risorse, però lo potete fare con il software che avete. Benissimo. Ci ritroviamo quindi la cartella non zippata, la apriamo e vediamo il file di setup, eSpeak. Facciamo doppio clic e lo apriamo. Eseguiamo il software. Diamo l'ok per continuare. E cominciamo la procedura di installazione. Qui riconosce direttamente la lingua da selezionare e da installare, in questo caso italiano e la installa nel nostro computer. Benissimo. Andiamo a vedere. insieme alla voce scaricherà anche un piccolo software molto semplice che si chiama TTS App che ci permetterà di vedere le voci che abbiamo installato all'interno del nostro computer SAPI 5 e di provarle. eSpeak ha selezionato tre voci quindi le ha installate sul nostro computer IT IT più F2 IT Scusate Speak English EN Proviamo TTS App Andando su Speak possiamo provarla scriviamo però una frase in italiano proviamo proviamo la voce clicchiamo su Speak sentite che non è delle migliori la qualità non è delle migliori però possiamo utilizzarla appunto per provare le voci che abbiamo sul nostro computer oppure i software che appunto utilizzano sintesi vocale benissimo per iSpeak è tutto al prossimo tutorial iscriviti al canale ho Lifows